Iniziando la biografia del mio eroe, Alexei Fyodorovich Karamazov, mi sorprendo in una certa titubanza. E infatti, benché io chiami Alexei Fyodorovich il mio eroe, sono il primo a sapere che si tratta di tutt'altro che di un grand'uomo, e quindi prevedo pure che mi verranno inevitabilmente rivolte domande di questo genere. Che cosa rende significativo il vostro Alexei Fyodorovich, dato che voi lo avete scelto a vostro eroe, che ha mai compiuto di bello, a chi è noto e a che proposito, per quale ragione io, lettore, debbo spendere del tempo nell'informarmi dei fatti della sua vita? Quest'ultima domanda è veramente cruciale. Da chi ad essa posso rispondere solamente, forse lo vedrete da voi, leggendo il romanzo. Va bene, ma se il romanzo si leggerà e non si riuscirà a cogliere, a trovare un accordo sulla significanza del mio Alexei Fyodorovich? Dico così, perché con amarezza prevedo già come andranno le cose. Per me, egli è significativo, ma dubito profondamente di riuscire a dimostrarlo al lettore. Il fatto è che si tratta bensì a guardar bene un uomo d'azione, ma d'un uomo d'azione non ben definito, non ancora chiaritosi compiutamente. Sarebbe strano, del resto, in un'epoca come la nostra, esigere dagli uomini la chiarezza. In una cosa, indubbiamente, si può convenire. Siamo in presenza ad un uomo strano, anzi addirittura ad uno stravagante. Ma la stranezza e la stravaganza sono piuttosto un dato negativo, che non un titolo alla considerazione, specialmente quando l'aspirazione di tutti è di riunire insieme le particolarità individuali e di trovare un qualche senso generale all'universale insensatezza. Lo stravagante, invece, nella maggior parte dei casi, è particolarità e idiosincrasia. Non è forse così? Certo che se voi non consentiste con quest'ultima tesi e rispondeste se non è così, oppure non sempre è così, io lo confesso, mi sentirei più ottimista sul conto del mio eroe, Alexei Fyodorovich, da che non solo lo stravagante, non sempre, è particolarità e idiosincrasia, ma al contrario. Può avvenire che appunto egli, se non vi dispiace, recchi in sé qualche volta il midollo dell'universo, mentre gli altri uomini della sua epoca, tutti quanti, in una specie d'uragano, si sono temporaneamente, per un motivo o per l'altro, distaccati da lui. Io non mi sarai ingolfato, d'altronde, in queste poco interessanti e poco perspicue spiegazioni, avrei cominciato addirittura senza alcuna prefazione. Se il romanzo fosse piaciuto, lo si sarebbe letto e basta. Quanto alla biografia, ne ho una sola, ma di romanzi ne ho due. Il romanzo più importante è il secondo, quello che descrive l'attività del mio eroe all'epoca nostra, e precisamente nel nostro momento attuale. Il primo romanzo, invece, si svolse tredici anni or sono, e non è quasi neppure un romanzo, ma solo un momento della prima giovinezza del mio eroe. Fare a meno di questo primo romanzo non mi è stato possibile, perché molto di quanto c'è nel secondo non si comprenderebbe più, ma in tal modo viene a farsi più complessa la mia titubanza iniziale. Se infatti io, che sono il biografo, trovo che un solo romanzo sarebbe forse già di troppo per un eroe così modesto e indefinito, con che criterio venire fuori con due, e come spiegare tanto ardimento da parte mia? Incapace di risolvere questioni simili, risolvo di saltarli a pie pari, senza risoluzione di sorta. Il lettore sagace, ben si intende, ha indovinato già da un pezzo, che a questo tendevo io fin da principio, e non ha provato altro che del disappunto al mio indirizzo, vedendomi sprecar tante parole inutili e tanto tempo prezioso. A questo proposito risponderò in particolare. Ho sprecato parole inutili e tempo prezioso, anzitutto per cortesia, in secondo luogo per astuzia. In ogni modo, volere o no, con qualche avvertimento l'ho pur dato. Eppure, sono perfino contento che il mio romanzo sia venuto a scindersi di per sé in due narrazioni, mantenendo l'unità essenziale dell'insieme. Fatta conoscenza con la prima narrazione, il lettore potrà giudicare da sé, se valga la pena di affrontare la seconda. Nessuno, insomma, ha obblighi di nessuna specie. Liberi di cetar via il libro, anche dopo due pagine della prima narrazione, per non riaprirlo mai più. Ma ci sono, vedete, certi lettori delicati, che vorranno infallibilmente leggere tutto fino alla fine, in modo da poter emettere un giudizio imparziale. Tali, per esempio, tutti i critici russi. Ed ecco che di fronte a costoro mi sento pur tuttavia il cuore più leggero. Nonostante tutta la loro diligenza e coscienziosità, fornisco loro il più legittimo pretesto per gettar via il libro al primo episodio del romanzo. E con questo, la prefazione è finita. Sono anch'io perfettamente d'accordo che sia superflua, ma siccome ormai è bella scritta, lasciamola stare. E adesso all'opera. Fyodor Pavlovich Karamazov Alexei Fyodorovich Karamazov era il terzo figlio di quel possidente del nostro distretto, Fyodor Pavlovich Karamazov, che fu tanto noto ai suoi tempi e anche ad esso ricordato fra noi per la sua tragica e oscura fine avvenuta precisamente tredici anni fa e intorno alla quale parlerò a suo luogo. Per ora, di questo possidente, come da noi lo chiamavamo, sebbene in tutta la vita non avesse quasi mai dimorato nei suoi possedimenti, dirò soltanto che era un tipo strano, quale però non è difficile incontrarne, e cioè il tipo dell'uomo non soltanto abietto e dissoluto, ma insieme anche sconclusionato. Di quegli sconclusionati, tuttavia, che sanno magnificamente sistemare i propri affarucci e i propri interessi, e questi soli, a quanto sembra. Fyodor Pavlovich, per esempio, aveva cominciato quasi dal niente, come possidente era più che modesto, correva a pranzare qua e là, nelle tavole altrui, si imbrancava coi parassiti, eppure, al momento della sua morte, si trovò che gli aveva non meno di centomila rubli in denalo sonante, e ciò non toglie che per tutta la vita non avesse mai cessato di essere uno dei più sconclusionati bislacchi di tutto il nostro distretto. Ripeto un'altra volta, non si tratta, in questi casi, di stupidità, che, anzi, la maggior parte di questi scapestrati sono abbastanza intelligenti e scaltri. Si tratta di vera e propria scervellataggine, con una sfumatura tutta speciale, nazionale. Sara ha mogliato due volte, e aveva tre figli, il maggiore, Dmitri Fiodorovic, della prima moglie, e gli altri due, Ivan e Alexei, della seconda. La prima moglie di Fiodor Paolovic apparteneva all'agiata e distinta famiglia dei nobili Miusov, anche essi possidenti del nostro distretto. Come fosse precisamente accaduto che una ragazza con tanto di dote e avvenente ed intelligenza apertissima, come fra noi sono tanto frequenti nell'attuale generazione, ma se ne trovano anche nella passata, potesse andare sposa a un tale infimo scarto, come tutti lo chiamavano allora, non mi infermerò troppo a spiegarlo. Io stesso ho conosciuto una ragazza, dell'ormai trapassata generazione romantica, la quale, dopo parecchi anni di enigmatico amore per un certo signore, che avrebbe potuto benissimo ogni volta che avesse voluto sposare nel più tranquillo dei modi, aveva finito con l'inventarsi degli insormontabili ostacoli e, in una notte tempestosa, si gettò da un'alta ripa, simile a una scogliera, in un fiume abbastanza profondo e veloce, e i viperì, senza altra causa che i propri capricci, unicamente per rassomigliare all'ofelia di Shakespeare. Tanto che, se quella scogliera già da un pezzo osservata e vagheggiata non fosse stata così pittoresca e al posto di essa ci fosse stata una prosaica sponda piatta, forse neppure il suicidio si sarebbe avverato. Questo fatto è autentico ed è lecito a pensare che nella nostra vita russa, durante le ultime due o tre generazioni, fatte di questo genere ne siano accaduti in buon numero. Similmente, anche il gesto di Adelaida Ivanovna Miusova era stato senza dubbio il riflesso di suggestioni estrane e insieme l'esasperazione di un pensiero imprisionato. C'era in lei, forse, un bisogno di dimostrare l'indipendenza della donna, di marciare contro le convenzioni sociali, contro il dispotismo del lignaggio e della famiglia, che la docile fantasia la aveva persuasa, sia pure per un istante, che Fyodor Pavlovich, nonostante la sua professione di parassita, era tuttavia uno dei più arditi e spiritosi uomini di quell'epoca, destinata a preparare in tutto migliori destini, mentre in realtà costruiva semplicemente un maligno buffone e nulla di più. Il piccante dell'episodio era nel fatto che avevano ricorso al rapimento, cosa che aveva molto solleticato Adelaida Ivanovna. Del canto suo, Fyodor Pavlovich, a tutte queste avventure, era stato spinto in gran parte anche dalla sua posizione sociale, già che aveva una voglia matta di far carriera, costasse quel che costasse, e certo, appiccicarsi a una buona famiglia e acciuffare una dote era una cosa molto attraente. Quanto poi al reciproco amore, non c'era stato affatto, a quanto pare, né da parte della fidanzata, né da parte di lui, nonostante tutta la bellezza di Adelaida Ivanovna. Caso forse unico e la biografia di Fyodor Pavlovich, uomo dedito tutta la vita alla lussuria, pronto in un lampo ad attaccarsi a qualsiasi gonnella al primo incoraggiamento che ne avesse. Soltanto questa donna non aveva prodotto su di lui, dal lato passionale, nessuna particolare impressione. Adelaida Ivanovna, immediatamente dopo il ratto, si era accorta di colpo che per il proprio marito non provava che disprezzo e nulla di più. In tal modo, le conseguenze di quel matrimonio si palesarono con eccezionale celerità. Sebbene la famiglia si fosse anzi rassegnata con una certa arrendevolezza al fatto compiuto e avesse versato alla fuggiasca la sua parte di dote, tra i coniugi cominciò una vita tumultuosissima, piena d'eterne scenate. Si raccontava che la giovane sposa avesse dimostrato in questi frangenti un animo senza paragone più nobile ed elevato che non Fiodor Paolović, il quale, come ormai si sa bene, le aveva soffiato via fin da allora da un sol colpo tutto il denaro, non meno di 25.000 rubli che essa aveva appena ricevuto. Carte la mille che da quel momento per lei fu come se fossero andate a picco nell'acqua. Quanto poi alla piccola tenuta e alla casa di città di un certo valore che le erano pure toccate in dote, egli cercò per un pezzo con tutte le maniere di farle passare a nome suo stipulando un atto adeguato e indubbiamente ci sarebbe riuscito non fosse altro per il disprezzo e la ripugnanza che ispirava senza tregua alla moglie con le sue spudorate estorsioni e supplicazioni. Non fosse altro insomma per la stanchezza morale di lei per il bisogno di finirla una buona volta. Ma fortunatamente era intervenuta la famiglia di Adelaida Ivanovna e aveva posto un limite alla prevaricazione. A un fatto risaputo che fra coniugi avvenivano di frequente delle zuffe ma, secondo una voce generale, chi picchiava non era Fyodor Paolovic, era Adelaida Ivanovna, signora impetuosa, ardita, bruna, intollerante, dotata di notevole forza fisica. Finì che essa abbandonò Fyodor Paolovic e fuggì da casa con un qualsiasi morto di fame, un seminarista che faceva il maestro, lasciando sulle spalle a Fyodor Paolovic Mitia, di tre anni. Senza perder tempo, Fyodor Paolovic mise su dentro casa un vero e proprio harem con le più sfrenate gozzoviglie, tra l'una e l'altra delle quali se ne andava in giro per tutto il governatorato a pianucolare e a lamentarsi ai quattroventi da Adelaida Ivanovna che lo aveva abbandonato e a questo proposito riferiva certi particolari che un uomo coniugato si vergognerebbe a riferire della sua vita matrimoniale. Fatto sta che sembrava riuscirli piacevole e addirittura lusingarlo, recitare così dinnanzi a tutti la ridicola parte del marito offeso e con tanto di frange scelinare dettagli dell'offesa che aveva patito. Si direbbe che voi Fyodor Polovich abbiate ricevuto una promozione per quanto siate soddisfatto nonostante tutto il vostro dolore gli dicevano i burloni. Molti aggiungevano addirittura che per lui era una gioia potersi presentare così in un rinnovato costume da buffone e che apposta per far ridere più di gusto faceva mostra di non avvedersi della comicità della situazione. Chissà però potrebbe anche darsi che gli agisse così per un impulso spontaneo. Finalmente gli venne fatto di scoprire le tracce della sua fuggitiva. La poveretta era stata vista a Pietroburgo dove sarà rifugiata col suo seminarista e dove sarà data anima e corpo alla più completa emancipazione. Fyodor Paolovich senza dubbio cominciò a darsi attorno e a preparar questo e quello per recarsi a Pietroburgo. A che fare poi non lo sapeva neppure lui e forse ci sarebbe anche andato davvero ma appena presa quella decisione subito si credette in diritto per darsi spirito così alla vigilia del viaggio di rituffarsi nella più sfrenata ubriachezza. Ed ecco che appunto in quel torno di tempo longeva alla famiglia della moglie la notizia della morte di lei a Pietroburgo. Era morta improvvisamente in chissà quale soffittaccia di tifo secondo alcune voci e secondo altre sembrava di fame. Quando venne a sapere che la moglie era morta Fiodor Paolovich era ubriaco dicono che si mettesse a correre per la strada e a gridare festosamente alzando le mani al cielo NUNC DIMITIS SERVUNTUUM altri dicono invece che piangesse come un bambino tanto che assicurano stringeva il cuore a guardarlo qualunque fosse la ripugnanza che si potesse avere per lui è molto probabile che tutte e due le cose si verificassero e cioè che fosse lieto della sua liberazione e nello stesso tempo piangesse su colei che lo aveva liberato l'una e l'altra cosa a un tempo nella maggioranza dei casi gli uomini e sia pure i farabutti sono molto più ingenui e semplici di come li giudichiamo noi e noi per primi siamo così si disfa del primo figlio ci vuol poco ormai a immaginarsi che razza di educatore e di padre potesse essere un uomo simile accadde sotto questo rispetto ciò che appunto doveva accadere che egli cioè trascurò completamente come se non esistesse il figliolino nato gli da Adelaida Ivanovna non già per rancore verso di lui o per qualche risentimento della sua disavventura coniugale ma semplicemente perché lo aveva dimenticato del tutto mentre importunava tutti quanti con le sue lacrime e le sue lamentele e aveva trasformato casa sua in un antro di bagordi quel bambinetto di tre anni Mitia era stato preso in custodia dal fedele servitore di casa Grigori e se allora non se ne fosse curato costui forse il bambino non avrebbe avuto chi gli cambiasse la camicia per colmo di sventura una serie di circostanze fece sì che i parenti materni del bambino sembrassero averlo dimenticato anch'essi in quei primi tempi il nonno ossia proprio il signor Musov il padre di Adelaida Ivanovna non era ormai più fra i vivi rimasta vedova sua moglie la nonna di Mitia si era trasferita a Mosca e si trovava in condizioni di salute sempre più disastrose le zie avevano sposato e così per quasi un anno intero a Mitia toccò restarsene con Grigori il servitore abitando con lui nella baracchetta annessa alla casa padronale seppure alle volte il papà si lamentava di Mitia e non gli era possibile infatti ignorare la sua esistenza era egli stesso rimandarlo poi la alla baracchetta da che il bambino gli sarebbe riuscito pur sempre ad ostacolo nelle sue gozzoviglie ma avvenne che da Parigi facesse ritorno il cugino della povera Adelaida Ivanovna Pieter Aleksandrovich Musov il quale più tardi visse molti anni di seguito all'estero ma a quell'epoca era ancora un uomo di giovanissima età diverso però dagli altri Musov un uomo colto avvezzo alla vita delle grandi città e dei paesi esteri europeo per vita e negli ultimi anni liberale del 40 e del 50 nel curriculum della sua vita egli si trovò in relazione con molti dei personaggi più liberali della sua epoca sia in Russia sia all'estero conosceva personalmente tanto Proudhon quanto Bakunin e soprattutto amava indugiare ormai alla fine dei suoi pellegrinaggi nel ricordo e nel racconto dei tre giorni della rivoluzione parigina del febbraio 48 lasciando intendere che forse forse ci aveva preso anche lui parte attiva sulle barricate era questo uno dei più ammalianti ricordi della sua giovinezza egli possedeva abbastanza da vivere indipendente mille anime circa secondo l'antico modo di computare la sua eccellente tenuta si trovava appena fuori della nostra cittadina e confinava con le terre del nostro celebre monastero al quale Pieter Aleksandrovich ancora giovanissimo entrato appena in possesso dell'eredità aveva subito intentato un interminabile processo per il diritto su certe pescaie nel fiume o su certi tagli nel bosco con precisione non so certo è che iniziato il processo contro quei clericali venne a considerarlo addirittura come un suo obbligo di cittadino e di progressista come udì la storia di Adelaida Ivanovna che ricordava bene naturalmente e che una volta aveva anzi notata e venne a sapere che era rimasto il bambino egli nonostante tutto il suo sdegno giovanile e il suo disprezzo per Fiodor Paulovic intervenne nella faccenda fu appunto allora che per la prima volta ebbe a far conoscenza con Fiodor Paulovic e senz'altro gli dichiarò che avrebbe voluto incaricarsi lui dell'educazione del bambino per un pezzo poi continuò a raccontare come un particolare caratteristico che quando con Fiodor Paulovic era entrato a discorrere Dimitia quello era rimasto qualche minuto come uno che non comprendesse di che bambino si trattasse e addirittura sembrava meravigliato che ci fosse in casa un figliolino suo se nel racconto di Pietro Aleksandrovic poteva esserci dell'esagerazione doveva esserci tuttavia qualcosa di non lontano dalla verità ma è pur vero che Fiodor Paulovic vita natural durante amò sempre atteggiarsi artificiosamente di fronte agli altri e all'improvviso recitarvi dinanzi una parte inattesa senza che magari ce ne fosse la minima necessità non solo ma perfino apertamente al suo danno come sarebbe stato per esempio nel caso presente è questa del resto una caratteristica comune a un grandissimo numero di persone e anche di ben altra levatura che non fosse Fiodor Paulovic Piotr Aleksandrovic condusse l'affare con ardore e anzi fu nominato congiuntamente a Fiodor Paulovic tutore del bambino dato che la morte della mamma dato che la morte della mamma gli era pur rimasto un piccolo capitale la casa e un fondo e Mitia effettivamente fu allogato presso questo cugino di sua madre se non che costui non aveva una propria famiglia e siccome appena regolati e intascati i redditi dei suoi possedimenti si affrettò di nuovo a Parigi per un lungo soggiorno il bambino fu affidato da lui a una delle cugine di sua madre una signora moscovita avvenne così che trapiantatosi a Parigi anche egli dimenticò il bambino specie poi quando sopravvenne quella rivoluzione di febbraio destinata a colpire così a fondo la sua immaginazione tanto che non pote più scordarsene finché visse ma la signora moscovita morì e Mitia passò a una delle figlie maritate di lei sembra che poi ancora una volta la quarta egli mutasse nido ma su questo non starò ora a diffontarmi troppo tanto più che riavremo l'occasione di dir molte cose su questo primo genito di Fiodor Paulovic mi limiterò soltanto a dare di lui qualche precisazione proprio indispensabile senza la quale non potrei neppure cominciare il romanzo anzitutto il nostro Dmitri Fiodorovic fu il solo dei tre figli di Fiodor Paulovic il quale crescesse nella convinzione di possedere pur sempre un qualche capitale di modo che quando avesse raggiunto la maggior età si sarebbe ritrovato indipendente l'adolescenza e la giovinezza gli trascorsero in modo disordinato al ginnasi non terminò gli studi quindi capitò in una scuola militare quindi andò a finire al caucaso dove prestò servizio si batte in duello fu degradato tornò a prestare servizio fece di gran baldorie e relativamente alle sue possibilità sciallacquò parecchio denaro quanto a quest'ultimo aveva cominciato riceverne da Fyodor Paulovic soltanto dopo raggiunta la maggiore età fino allora aveva ricorso ai debiti e aveva già passato la maggiore età quando per la prima volta conobbe e vide Fyodor Paulovic suo padre fu quando appositamente venne tra noi per chiarire con lui la questione del suo patrimonio a quanto sembra il padre quella volta non gli piacque si trattenne da lui poco tempo e ripartì alla svelta dopo averne semplicemente ricevuto una certa somma ed esser venuto con lui a una transazione circa gli introiti che dora innanzi avrebbe riscosso dalla tenuta della quale però fatto degno di nota non aveva ottenuto per stavolta di sapere da Fyodor Paulovic né il reddito né il valore Fyodor Paulovic poté notare in questa occasione per la prima volta e anche questa è cosa da ricordare che Mitia aveva della propria posizione economica un concetto esagerato e falso e Fyodor Paulovic ne fu ben contento in vista dei calcoli che veniva facendo per conto suo dall'insieme concluse che il giovanotto era sventato tutto impeto dominato dalle passioni impaziente vivaiuolo un tipo che purché sul momento buscasse qualche cosa si sarebbe calmato subito sia pure si intende per un breve intervallo ed ecco che appunto questo si accinse a sfruttare Fyodor Paulovic cercando di cavarsela con piccoli regali con spedizioni di denaro di quando in quando finché un bel giorno quando Mitia ha passati ormai quattro anni e perduta la pazienza riapparve nella nostra cittadina con l'intenzione di definire una buona volta le questioni di interesse col padre accadde che d'improvviso con sua grandissima stupevazione risultasse che a lui ormai non restava più nulla che fare i conti era tutt'altro che semplice ma che lui aveva già preso via via in liquidi tutto il valore del capitale che Fyodor Paulovic gli amministrava e anzi forse era lui in debito verso quest'ultimo inoltre a norma delle tali e tal'altre transazioni a cui gli stesso in tal'epoca in tal'altra era voluto divenire non aveva ormai alcun diritto di pretendere nulla più e via su questo tenore il giovane rimase sconcertato sospettò la menzogna il raggiro per poco non uscì fuori di sé e sembrò perder la ragione ecco appunto quale è la circostanza che condusse a quella catastrofe l'esposizione della quale costituisce l'oggetto del mio primo romanzo introduttivo o per dir meglio il lato esteriore di esso ma prima di venire a questo romanzo bisogna ancora che dica pur qualcosa degli altri due figli di Fyodor Paulovic fratelli di Mitia e spiegare di dove costoro erano saltati fuori secondo matrimonio e figli di secondo letto Fyodor Paulovic quando si fu lavato le mani del quattrenne Mitia aspettò ben poco ad ammogliarsi per la seconda volta questo secondo matrimonio ebbe la durata di otto anni proveniva questa seconda moglie di nome Sofia Ivanovna da un altro governatorato dove egli sarà recato per un piccolo lavoro che aveva preso in appalto in società con non so quale ebreucolo già che Fyodor Paulovic per quanto gozzovigliasse e bevesse e facesse il debosciato non cessava però di badare intanto a mettere a frutto il suo capitale e combinava i suoi affarucci in modo sempre fortunato seppure si intende quasi sempre non molto pulito Sofia Ivanovna era un'orfanella senza famiglia fin dall'infanzia cresciuta nella ricca casa della sua benefattrice educatrice e tormentatrice la illustre vecchia vedova del generale Vorokov non conosco i particolari ma ho sentito dire che la giovinetta mite senza malizia sottomessa un giorno era stata tolta appena in tempo dal cappio che aveva appeso in uno stambugio a tal segno le riusciva gravoso sopportare le strenezze e i perpetui rimproveri di quella vecchia che certo era d'animo cattivo ma che l'ozio rendeva più intrattabile e puntigliosa che mai Fyodor Paolovic fece la sua proposta quelli presero informazioni su di lui e lo scacciarono e allora eccolo un'altra volta come già per il primo matrimonio proporre all'orfanella il rapimento è molto molto probabile che essa non si sarebbe a nessun costo ridotta a seguirlo se fosse venuta a conoscere in tempo maggiori particolari sul suo conto ma la cosa avveniva in un altro governatorato e poi che cosa poteva capire una giovinetta di 16 anni forché meglio buttarsi nel fiume piuttosto che restare in casa della benefattrice sì la poverina barattola benefattrice col benefattore Fyodor Paolovic non aveva buscato stavolta neppure un centesimo già che la generale essa era andata sulle furie non aveva dato nulla e anzi li aveva tutte e due maledetti ma egli non aveva neppure fatto conto stavolta di buscare era stato attirato dalla spiccata bellezza dell'ingenua giovinetta e soprattutto dall'aria innocente che lo aveva colpito lui libertino indurito e amatore vizioso di sguagliate bellezze femminili io a vedere quegli occhietti innocenti mi sentivo affettare l'anima come da un rasoio soleva raccontare poi quel suo solito turpe ghignetto senza dire poi che in un dissoluto come lui anche questo poteva essere un incentivo alla libidine non avendo dunque buscato nessuna ricompensa Fyodor Paolovic non stette a fare con sua moglie tante cerimonie e approfittando del fatto che essa di fronte a lui era per così dire in fallo e lui la aveva quasi sfilata dal cappio non solo ma approfittando anche della eccezionale mitezza e arrendevolezza di lei senz'altro si mise sotto i piedi le più elementari convenienze coniugali in casa lì sotto gli occhi della moglie bazzicavano donne di malaffare e si svolgevano delle orge riferirò come un tratto caratteristico che Grigori il servitore cupo tuso e testardo pedante il quale aveva avuto in odio la prima padrona Adelaida Ivanovna stavolta prese le parti della nuova padrona la difendeva rimbrottava per lei Fyodor Paolovic tanto da oltrepassare i limiti della sua posizione di servitore e una volta giunse il punto di spazzar via con la violenza uno di quei festini e tutte le squaldrine che ci erano convenute di lì a poco la infelice giovane sottoposta fin da bambino agli spaventi fu colpita da una specie di malattia nervosa frequente soprattutto nel basso popolo fra le donne di campagna dove le affette di questo male vengono chiamate clicusci era una malattia che coi suoi terribili attacchi isterici faceva sì che la malata perdesse perfino a periodi la ragione essa partorì tuttavia a Fiodor Paulovic due figli Ivan e Alexei il primo nel primo anno di matrimonio il secondo tre anni dopo quando la morte la colse il piccolo Alexei era sui quattro anni e benché possa sembrare strano io so di certo che egli si sovvenne poi della madre per tutta la vita sebbene come di un sogno morta lei tutte e due i figliolini ebbero quasi l'identica sorte del primo Dimitia furono completamente scordati e trascurati dal padre e passarono anche loro in mano a Grigori anche loro finirono nella sua baracca appunto in quella baracca ritrovò la vecchia caparbia generalessa benefattrice ed educatrice della loro madre e sarà ancora viva e per tutto questo spazio dopo anni non avevo potuto dimenticare l'offesa che le avevano fatta come tirasse innanzi la sua Sophie durante questi otto anni se n'era tenuta informata nel modo più preciso via sentire che sarà ammalata e tutti i disordini che la circondavano aveva pronunciato due o tre volte coi suoi parassiti la frase ben le sta è castigo di Dio per la sua ingratitudine esattamente tre mesi dopo la morte di Sofia Ivanovna la generalessa si presentò ad improvviso nella nostra città dritta dritta alla casa di Fyodor Paulovic e se fratutto non si trattenne in città più di mezz'ora non perdete il suo tempo era verso sera Fyodor Paulovic che in questi otto anni non aveva più veduto le venne innanzi un po' brillo raccontano che in un battibaleno senza spiegazioni di sorta come se li vide di fronte gli appioppò due memorabili e sonori ceffoni e gli diede tre strattoni per il ciuffo dall'alto in basso dopodiché senza porci parola si diresse alla volta della baracca dai due bambini avvedendosi fin dalla prima occhiata che questi stavano lì mal lavati e in camicine sudice e se diede immediatamente un altro ceffone anche a Grigori e gli spiegò che portava via i due bambini a casa sua detto fatto li tolse su come si trovavano li avvoltolò in un plaid li accomodò in carrozza e li portò con sé nella città dove risiedeva Grigori incassò quel ceffone da servo fedele senza neanche fiatare e quando aveva accompagnato la vecchia signora alla carrozza inchilandosi con la testa fino alla cintola gli aveva detto ispiratamente che il Dio la avrebbe rimeritata per gli orfanelli ma tu sei un uomo di gesso però gli aveva gridato la generalessa partendo Fiodor Paolovic considerato che ebbe l'affare giudicò che era un affare tutt'altro che cattivo e nel formale consenso che poi dove dare perché i bambini venissero allevati dalla generalessa non ricusò di sottostare a nessuna condizione quanto ai ceffoni buscati andò in giro lui stesso a raccontarlo alla città intera avvenne che di lì a poco anche la generalessa morisse essa aveva però lasciato nel suo testamento a favore dei piccini mille rubli per ciascuno da destinarsi alla loro istruzione col patto che tutto questo denaro sia speso esclusivamente per loro ma in modo che basti fino a che essi raggiungano la maggiore età da che una tal somma è fin troppo per ragazzi come questi e se poi a qualcuno ne venisse luzzo ci pensi lui ad allentare il cordone della borsa eccetera eccetera io il testamento non l'ho letto ma mi han riferito che vi si trovavano appunto strane cose di questo genere espresse in modo eccessivamente personale erede principale della vecchia risultò per fortuna un galantuomo il maresciallo della nobiltà di quel governatorato Efim Petrovich Polenov entrato in corrispondenza con Fyodor Paolovich indovinò subito che da costui denaro per l'educazione dei suoi propri figli non era il caso ad aspettarsene anche se è vero che quello non poneva mai un rifiuto netto ma sempre si disimpegnava tirando le cose in lungo e a volte si affondeva in sentimentalismi si prese quindi a cuore gli stessi orfanelli e soprattutto si affezionò al piccolo Alexei tanto che quest'ultimo per un lungo periodo di tempo crebbe perfino con la sua famiglia è questa una cosa che prego il lettore di notare fin d'ora e non c'è dubbio che se a qualcuno con questi giovani dovevano andar grati tutta la vita per l'educazione e l'istruzione che avevano ricevuta questi era appunto Efim Petrovich uomo generosissimo e pieno d'umanità come non è davvero facile incontrarne egli servò i ragazzi intatto il migliaio di rubri che la generalessa aveva lasciato a ciascuno di modo che quando essi furono maggiorenni quella somma era aumentata degli interessi fino a toccare i 2000 per ciascuno quanto poi all'educazione si pensò a specie sue e certo ebbe a spendere per ciascuno assai più che 1000 rubli ancora una volta mi astengo dall'addentrarmi in una narrazione particolareggiata della loro infanzia e della prima giovinezza e tratteggerò soltanto le circostanze principalissime del più grande Ivan dirò soltanto che gli divenne un adolescente un po' imbronciato e chiuso in se stesso era tutt'altro che timido ma sembrava che già a 16 anni avesse pienamente compreso che essi venivano su in una famiglia estranea grazie al buon cuore altrui e che il padre che avevano loro era di un certo tipo da vergognarsi perfino a parlarne eccetera eccetera era un ragazzo che assai precocemente quasi fin dall'infanzia almeno a quanto si ripeteva aveva rivelato non comuni brillanti disposizioni allo studio di preciso non so come ma certo è che dalla famiglia di Efim Petrovic egli si staccò che non aveva ancora 13 anni recandosi a frequentare uno dei ginnasi di Mosca a pensione da un esperto e famoso pedagogo del tempo amico di infanzia di Efim Petrovic lo stesso Ivan raccontava poi che tutto era avvenuto a causa della focosità filantropica di Efim Petrovic acceso dall'idea che un ragazzo di disposizioni geniali dovesse svilupparsi presso un educatore geniale ma del resto Efim Petrovic nell'educatore geniale erano tra i vivi quando il giovane terminato il ginnasio entrò all'università siccome Efim Petrovic non aveva lasciato disposizioni ben chiare e la consegna delle somme testate dalla caparbia generalessa in favore dei ragazzi cresciute man mano con gli interessi da 1000 a 2000 rubli andava per le lunghi a causa delle varie formalità e procrastinazioni che da noi sono assolutamente indispensabili ne seguì che il giovane si trovò in grandi strettezze nei suoi primi due anni di università tanto che per tutto quel tempo fu obbligato a guadagnarsi da vivere e a un tempo frequentare i corsi bisogna rilevare che egli non volle neppure tentare in quegli anni di tenersi in corrispondenza col padre per orgoglio forse per disprezzo verso di lui ma forse anche per una fredda lucida riflessione che gli faceva intendere come da quel babbo non ci fosse da ricevere nessun aiuto appena appena consistente ad ogni modo il giovane non si perdette punto e riuscì a procurarsi lavoro da prima dando ripetizioni a 80 centesimi più tardi correndo per le redazioni dei giornali e fornendo articoletti da 10 righe sugli avvenimenti della strada che firmava un testimonio oculare dicono che quegli articoletti fossero sempre redatti in modo così interessante e piccante che ben presto acquistarono molti lettori e basterebbe questo a dimostrare di quanto il giovane fosse superiore per attitudini pratiche e per ingegno a quella numerosa eternamente bisognosa disgraziata folla di studenti di ambo i sessi che nelle nostre città ha l'abitudine di soggiornare da mattina a sera sulle soglie delle varie riviste e giornali senza sapere scogitare niente di meglio forché eternamente ripetere sempre quella richiesta di traduzioni del francese o di corrispondenza familiarizzatosi con le redazioni Ivan Fedrovich continuò anche più tardi a mantenersi in rapporto con esse e negli ultimi due anni di università cominciò a stampare acutissime analisi di libri specializzandosi su vari argomenti tanto da farsi un nome perfino nei circoli letterari ma fu proprio all'ultimo momento che gli venne fatto per caso di attrarre su di sé tutta un tratto la viva attenzione di un assai più ampio circolo di lettori cosicché ci furono moltissimi che allora per la prima volta lo notarono e lo tennero a mente fu un caso abbastanza singolare si era già congedato dall'università e con i suoi duemila rubli si accingeva a partirsene per l'estero quando stampò su uno dei maggiori giornali uno strano articolo che attrasse su di lui l'attenzione non solo degli specialisti soprattutto per l'argomento che evidentemente gli era tutt'altro che familiare dato che egli aveva preso la laurea in scienze naturali l'articolo trattava di una questione che quel momento sarà sollevata dovunque quella dei tribunali ecclesiastici passate in rassegna alcune opinioni già espresse sull'argomento egli denunciava il suo personale punto di vista il meglio stava nel tono e nella singolare sorpresa della conclusione ma intanto molti ecclesiastici avevano preso senz'altro l'autore per uno dei loro ed ecco che parallelamente non solo fautori dei tribunali civili ma perfino atei dichiarati si misero dal canto loro ad applaudire anch'essi alla fin fine alcuni spiriti sagaci compresero che tutto l'articolo era soltanto uno scherzo impertinente e una canzonatura ho ricordato il fatto perché soprattutto che questo articolo venne a penetrare in buon punto anche nel nostro famoso convento suburbano dove quella questione sorta intorno ai tribunali ecclesiastici destava un vivo interesse venne a penetrare fin qui e provocò il più profondo sconcerto quando poi videro il nome dell'autore l'interesse fu accresciuto dal fatto che costui era nativo della nostra città e figlio appunto guarda un po' di Fyodor Paulovic quando ecco proprio in quel torno di tempo apparire fra noi l'autore in persona perché fosse venuto allora Ivan Fyodorovic qui da noi è una domanda che io ricordo mi fece anche allora con una specie di inquietudine questa venuta così fatale destinata a essere il principio di tante conseguenze rimase per me ancora gran tempo e direi sempre una cosa inspiegabile generalmente parlando sembrava strano che un giovane così colto così orgoglioso di contegno così riservato tutto a un tratto si presentasse in una casa così sconveniente da un padre che da quando lui era nato aveva ignorato la sua esistenza non lo conosceva non si ricordava di lui un padre che è vero denari non ne avrebbe dati in nessun caso e a nessun patto se un figlio gli avessi chiesti ma ciò non toglie che tutta la vita aveva temuto che un giorno o l'altro i figli Ivan e Alexei sarebbero pur venuti e gli avrebbero chiesto denari ed ecco che questo giovane viene a stabilirsi in casa ad un padre comprensibile vive con lui un mese un altro ed entrambi si sistemano insieme come meglio non si potrebbe quest'ultimo punto colpì soprattutto non soltanto me ma anche molt'altri Peter Aleksandrovich Musov del quale ho già parlato sopra lontano parente di Fyodor Paulovic per parte della prima moglie capitò di nuovo in quel momento fra noi nel suo possedimento suburbano in una breve assenza da Parigi dove ormai si era stabilito definitivamente ricordo che appunto egli restò meravigliato più di tutti quando ebbe stretto conoscenza con quel giovane che lo interessava moltissimo e a volte senza un segreto rammarico si piccava di gareggiarci a chi fosse più colto è orgoglioso diceva di lui saprà sempre guadagnarsi il pane e già fin d'ora ha abbastanza per recarsi all'estero che cosa fa dunque qui chiunque capisce che è venuto dal padre per altro che per denaro già che di questo non c'è caso che il padre gliene darebbe bere e fare il dissoluto non gli piace eppure il vecchio non può fare a meno di lui tanto si sono abbezzati bene insieme ed era la verità il giovane esercitava perfino un'influenza evidente sul vecchio quest'ultimo di quando in quando cominciava quasi si sarebbe detto a dargli ascolto benché fosse sfrenatamente perfidamente capriccioso a momenti e perfino nel modo di comportarsi cominciava di quando in quando a rispettare un po' più la decenza soltanto in seguito si chiarì che Ivan Fyodorovic era stato spinto in parte a venire delle preghiere e dagli interessi del fratello maggiore Dmitri Fyodorovic che per la prima volta da quando era nato aveva conosciuto e veduto all'incirca in quello stesso torno di tempo ma per una circostanza molto seria che toccava soprattutto Dmitri Fyodorovic si era già messo in corrispondenza con lui da prima della sua venuta da Mosca di che cosa si trattasse il lettore verrà a saperlo per filo e per segno a suo tempo so non di meno anche quando fu informato di questa particolare circostanza Ivan Fyodorovic mi apparve pur sempre enigmatico e la sua venuta fra noi è ugualmente inspiegabile aggiungerò ancora che Ivan Fyodorovic si presentava allora in veste di intermediario e di pacere fra il padre e il fratello maggiore Dmitri Fyodorovic il quale andava meditando una rottura definitiva e anzi un'azione legale avverso il padre questa famiglia ripeto si trovava allora per la prima volta riunita insieme al completo e c'erano alcuni membri di essa che per la prima volta da che stavano al mondo si vedevano l'un l'altro solo il figlio più piccolo Alexei Fyodorovic già da un anno dimorava fra noi e in tal modo era capitato qui anteriormente a tutti i fratelli e appunto di questo Alexei mi riesce soprattutto difficile a parlare in questa mia esposizione introduttiva prima di portarlo in scena nel romanzo ma anche su di lui bisognerà premettere qualche parola se non altro per spiegare in precedenza un punto veramente strano che è questo il mio futuro eroe fin dalla prima scena del suo romanzo dovrò presentarlo ai lettori in tonaca di novizio già era ormai un anno che viveva nel nostro monastero e per tutta la vita quanto sembra si preparava a chiudersi in esso il terzo figlio Alyosha aveva giusto vent'anni mentre il fratello Ivan era nei ventiquattro e il fratello maggiore Dmitri nei ventotto per prima cosa voglio dire che questo giovanetto Alyosha era tutt'altro che un fanatico e almeno a mia parere forse neppure un mistico senz'altro esporò la mia franca opinione era costui un precoce amatore degli uomini e se aveva infilato la via del monastero questo dipendeva unicamente dal fatto che in quel momento solo quella lo aveva colpito e raffigurava per lui vorrei dire il simbolo dell'esodo dell'anima sua dal buio di questo mondo malvagio a cui si strappava verso la luce dell'amore e la ragione per cui quella via lo aveva colpito era tutta nel fatto che appunto in essa aveva incontrato e a quel punto della sua vita un essere che gli era parso d'eccezione il nostro famoso starec zosima al quale si era legato con tutto l'ardente primo affetto del suo insaziabile cuore non starò a negare del resto che gli fosse anche allora assai strano come era sempre stato fin dalla culla a questo proposito ho già accennato come rimasto senza madre in età di non più di quattro anni continuasse a risovvenirsi sempre di lei del suo viso delle sue carezze proprio come se mi stesse viva d'innanzi ricordi di questo genere possono risovvenire è un fatto ben noto da un'età anche più remota perfino dai due anni ma solo riaffiorando per tutta la vita come puntini luminosi fra l'oscurità come un angolino isolato di un enorme quadro che se tutto infoschito è perduto eccettuato quell'unico angolino così appunto accadeva anche a lui dirso veniva una sera una sera d'estate quieta una finestra aperta i raggi obliqui del sole al tramonto quei raggi obliqui più d'ogni altra cosa nella camera in un canto un'immagine sacra dinanzi a questa accesa una lampada e in ginocchio dinanzi all'immagine singhiozzando come in una crisi isterica con stridi laceranti e alte grida sua madre che lo teneva per tutte e due le braccia se lo avvinghiava stretto da fargli male e pregava per lui la vergine lo protendeva con tutte e due le braccia staccandoselo dal petto verso quell'immagine in atto ad offrirlo alla protezione della vergine quando ecco di corsa entra la balia e glielo strappa dalle mani tutta spaventata che scena indimenticabile la lioscia ricordava da quel lampo persino al viso di sua madre diceva che era esaltato ma bellissimo per quanto poteva risuscitarselo innanzi ma di rado gli piaceva confidare a qualcuno questo ricordo durante l'infanzia e l'adolescenza era stato sempre poco espansivo e tuttora di poche parole ma non per timidezza o per poca socievolezza musoneria niente affatto c'era in lui qualcosa d'altro come una specie di tensione interiore tutta sua propria che non si riferiva agli altri ma che per lui era così importante da renderlo quasi dimentico degli altri ma per gli uomini sentiva amore si sarebbe detto che da quando era al mondo aveva vissuto credendo agli uomini con tutto l'essere mentre pure nessuno sarà mai sognato di considerarlo un sempliciotto né un ingenuo aveva in sé qualche cosa che diceva e faceva sentire come poi sempre finché visse che gli non voleva essere giudice degli uomini non voleva arrogarsi il diritto di condannarli e mai e poi mai non avrebbe condannato qualcuno si sarebbe detto perfino che tutto egli permettesse senza punto condannare seppure ritraendone spesso un'assai amara afflizione anzi in questo suo atteggiamento si spingeva tanto oltre che nessuno riusciva né a sorprendere né a spaventarlo e ciò fin dalla primissima sua giovinezza venendo a vent'anni presso il padre in quel vero e proprio antro di turpe di solutezza egli casto e puro non faceva che appartarsi in silenzio quando guardare diveniva intollerabile senza avere minimamente però l'aria di disprezzare o di condannare chi si fosse e il padre che in un certo periodo della sua vita aveva fatto il parassita ed era perciò uomo suscettibile e sensibilissimo alle offese egli che pure da principio lo aveva accolto con diffidenza e con malumore tace molto costui e rimugina molto tra sé ben presto invece si era del tutto mutato con lui tanto che ogni momento stava ad abbracciarselo e baciarselo tutto questo avveniva non più di due settimane dal suo arrivo e certamente fra lacrime brille in quella sentimentalità dell'ubriachezza ma era evidente che aveva preso ad amarlo sinceramente e profondamente come insomma non era accaduto mai a uno della sua tempra di amare nessuno già poi tutti amavano questo giovinetto dovunque egli si presentasse fin da quando era ancora un bambino portato in casa del suo benefattore e protettore Efim Petrovich Polenov si era tal segno accattivati tutti in quella famiglia e vi era considerato né più né meno che un figliuolo eppure era entrato in quella casa in un'età così tenera che davvero non è il caso di parlare di scaltrezza calcolatrice di destreggiamenti d'arte di ingraziarsi gli altri e di piacere o d'abilità a farsi amare si può dire dunque che il dono di suscitarsi una particolare simpatia egli lo racchiudeva in se stesso nella sua stessa natura senza artifici né mediazioni di sorta lo stesso gli era avvenuto alla scuola benché si sarebbe detto che fosse proprio uno di quei ragazzi che provocano la sfiducia dei compagni e a volte le beffe e magari l'odio egli per esempio aveva l'abitudine di raccogliersi in se stesso e di appartarsi fin dalla prima infanzia gli piaceva andarsene in un cantuccio e mettersi a leggere i suoi libricini e tuttavia i compagni gli volevano tanto bene che lo si sarebbe potuto chiamare l'idolo di tutti per tutto il tempo che frequentò la scuola raramente era sfrenato pure raramente era allegro ma tutti guardandolo subito vedevano che ciò non derivava da una sua musonaggine e che anzi era affabile e sereno fra i coetanei non c'era caso che gli piacesse di primeggiare forse era appunto questa la ragione per cui mai nessuno gli faceva timore ma nello stesso tempo i ragazzi si accorgevano subito che egli non si inorgogliva del suo coraggio e si comportava come se non capisse neppure ad essere ardito e coraggioso le offese non se le ricordava mai avveniva che un'ora dopo aver ricevuto un'offese rispondesse all'offensore o per primo cominciasse a parlargli con un'aria così fiduciosa e trasparente come se nulla fosse mai accaduto fra loro e non è già che avesse l'aria intanto ad essersene scordato per caso o di voler perdonare l'offesa bensì semplicemente non la considerava un'offesa ed era questo che accattivava e soggiogava i ragazzi sarà in lui solo un tratto del carattere che in tutte le classi del ginnasio a cominciare dalla prima fino alle superiori aveva sempre destato nei compagni una gran voglia di prenderlo in giro non però per derisione maligna ma semplicemente perché ci si divertivano questo tratto del suo carattere era una selvaggia furibonda pudicizia e castità egli non poteva ascoltare certe parole e certi discorsi intorno alle donne queste parole e discorsi di un certo genere sono purtroppo impossibili a sradicarsi dalle scuole i ragazzi che nell'anima e nel cuore sono puri quasi ancora bambini spessissimo si compiacciono di discorrere fra loro in classe e magari anche ad alta voce di certe cose di certe scene e immagini di cui non sempre parlerebbero neppure i soldati non solo i soldati non sanno e non capiscono molte cose di quelle che sono già note in questo campo ai ragazzi ancora tenerissimi delle nostre classi colte di depravazione morale magari non è il caso di parlare ancora e neppure di velocinismo depravato intimo ma un cinismo esteriore è innegabile e appunto questo viene considerato fra loro come qualche cosa di elegante di buon gusto da ragazzi in gamba degno ad essere imitato a vedere che Alessiuccio Karamazov appena loro cominciavano a parlare di quelle cose lesto lesto si turava le orecchie con le dita i compagni facevano apposta certe volte ad accalcargli si intorno e togliendogli a forza dalle orecchie e le mani giù a gridargli sconcezze dentro le orecchie e lui a dibattersi a rilassarsi in terra a stendersi giù a rimpiattirsi e tutto senza dir loro mai una parola senza risentirsi sopportando in silenzio l'offesa sul finire dei corsi però lo avevano lasciato in pace e non lo schermivano più con la mignola di signorinella non solo ma da questo punto di vista lo guardavano con commiserazione noterò di passata che nello studio era stato sempre fra i migliori ma non si era mai qualificato primo quando Efim Petrovic morì Alessia rimase ancora due anni a frequentare il ginagio del governatorato l'inconsolabile vedova di Efim Petrovic subito dopo la morte del marito partì per un lungo viaggio in Italia con tutta la famiglia composta esclusivamente di donne e Alioscia andò a finire in casa di due signore che prima d'allora non aveva mai vedute parenti non so quanto lontane di Efim Petrovic ma a quali condizioni costoro lo prendessero era il primo lui a non saperlo un'altra caratteristica sua e molto singolare era infatti quella di non prendersi mai pensiero di chi fossero i mezzi di cui viveva in questo era tutto il contrario del fratello più grande Ivan Fedorovic il quale aveva stentato la vita nei primi due anni di università sostenendosi col suo lavoro e fin da bambino aveva provato l'amarezza di vivere mantenuto dai stranei in casa di un benefattore ma questo lato bizzarro del carattere di L.S.K. non si poteva giudicare con molta severità una volta che chiunque lo avesse per poco conosciuto immediatamente se si fosse proposto questa questione sarebbe rimasto persuaso che L.S.K. era senz'altro una di quei giovani che hanno in sé del puro folle di quelli che posto che d'improvviso piova loro tramano tanto di capitale non ci penseranno due volte a darlo via magari al primo postulante o per un'opera buona o chissà addirittura uno scaltro filibustiere purché gliene abbia fatto richiesta e in modo più generale si potrebbe dire che gli non conosceva affatto il valore del denaro ben si intende a non prendere questa espressione alla lettera quando gli regalavano del denaro per i minuti piaceri denaro che lui non aveva mai chiesto o per settimane e settimane non sapeva che farci o con tremenda indifferenza in un batter d'occhi se lo faceva sfumar di mano Piotr Aleksandrovich Muzov uomo che in fatto di denaro e di probità borghese era ad una suscettibilità estrema una volta negli anni posteriori osservando alle schiei e mise su di lui il seguente aforisma ecco qui forse l'unico uomo al mondo che potreste lasciare di punto in bianco solo e senza un soldo sulla piazza di una sconosciuta metropoli di un milione d'abitanti e lui non si perderebbe affatto ne morirebbe di fame o di freddo che in un baleno lo nutrirebbero in un baleno lo accaserebbero e se non lo accasassero gli altri si accaserebbe da sé in un baleno senza che questo costasse a lui alcuno sforzo alcuna umiliazione né alcuna gravezza a chi lo avesse accasato che anzi forse lo riterrebbe un piacere al ginnasio egli non aveva terminato i corsi gli restava ancora un anno intero quando d'improvviso aveva dichiarato alle sue signore che andava dal padre per un certo affare che gli sarà presentato alla mente quelle se ne rammaricarono assai e non avrebbero voluto lasciarlo partire il viaggio costava ben poco e le signore non permisero che impegnasse l'orologio regalategli dalla famiglia del benefattore prima che partisse per l'estero lo rifornirono esse largamente di mezzi e perfino di fazzoletti e biancheria nuova egli tuttavia ridiede loro la metà del denaro dichiarando che assolutamente voleva fare il viaggio in terza classe giunto qui nella nostra cittadina quando il padre cominciò a domandargli perché sei venuto via dal ginnasio senza aver terminato i corsi fece del tutto a meno di rispondere e pareva come suol dirsi singolarmente pensieroso ben presto venne a scoprirsi che andava in cerca della tomba di sua madre anzi fu lui il primo a riconoscere che soltanto per questo era venuto qui ma ben altrimenti complesso doveva essere il movente della sua venuta la cosa più improbabile è che allora neppure lui sapesse o fosse in grado di spiegare comunque che cosa precisamente gli si fosse sollevato a un tratto di un fondo all'anima e irrefrenabilmente lo avesse trascinato verso una nuova sconosciuta ma ormai inevitabile strada Fyodor Pavlovich non ebbe la possibilità di mostrargli dove aveva sepolto la sua seconda moglie già che non era mai tornato sulla tomba di lei dal giorno che avevano interrato la bara e data l'epoca lontana gli era del tutto uscito di mente dove l'avessero sepolta allora una parola su Fyodor Pavlovich per lungo tempo prima di questi fatti aveva soggiornato fuori dalla nostra città tre o quattro anni dopo la morte della moglie si era recato nel sud della Russia ed era andato a finire a Odessa dove appunto aveva soggiornato parecchi anni di seguito aveva dapprima stretta relazione secondo le sue stesse parole con un sacco di giudei giudei giudeoli e giudeucci e aveva finito che all'ultimo non soltanto i giudei ma anche gli israeliti lo avevano ammesso fra loro è lecito supporre che appunto in questo periodo della sua vita si fosse sviluppata in lui quella particolare abilità raggruzzolare a spremer fuori i quattrini era tornato a stabilirsi nella nostra cittadina soltanto tre anni prima della venuta di Alyosha gli antichi amici lo trovarono terribilmente invecchiato benché fosse ancora tutt'altro che vecchio ma quanto ha condotta anziché più decoroso sarà fatto se è possibile più impudente di prima nell'antico buffone era venuto fuori per esempio lo sfrontato bisogno di far fare il buffone agli altri disordinare con le donne gli piaceva non già come una volta ma se è possibile in modo ancora più indegno non passo molto che impiantò nel distretto parecchie bettole nuove si capiva che doveva avere a disposizione un centinaio di mila rubli o poco meno numerose persone della nostra città e del nostro distretto non perdarono a ottenere denaro in prestito dietro le più solide garanzie è inutile dirlo ma in questi ultimi tempi egli aveva finito col farsi bolso col perdere la esattezza la netta coscienza dei propri affari e si era abbandonato addirittura a una specie di sventatezza cominciava con una cosa e finiva con un'altra si sperperava in mille nezie e sempre più di frequente trasmodava nel bere tanto che se non ci fosse stato ancora quel servitore Grigori ormai era invecchiato anche lui la sua parte e a volte assumeva di fronte al padrone nelle mansioni di Aio è probabile che Fyodor Pavlovs non avrebbe tirato innanzi senza gravi difficoltà la venuta di Agliosha sembrava agire su di lui anche dal lato morale fu come se qualche cosa si ridestasse in questo vecchio fuori del tempo qualche cosa che ormai da un pezzo gli era rimasta soffocata in fondo all'anima lo sai cominciò spesso a ripetere ad Agliosha posando lo sguardo su di lui lo sai che tu rassomigli a lei alla Clicuscia con questo nome che amava la moglie morta la madre di Agliosha fu Grigori il servitore finalmente a mostrare ad Agliosha la tomba della Clicuscia la condusse nel nostro cimitero suburbano e là in un remoto angoletto gli mostrò una lastra di ghisa di poco prezzo ma ben tenuta sulla quale spiccava un'iscrizione col nome l'età e la data di morte della defunta e sotto c'era inciso perfino una specie di tetrastico di quegli antiquati versi sepolcrali che usano sulle tombe della gente di mezza tacca fu una sorpresa sapere che questa lastra era opera di Grigori era stato lui a farla apporre sulla tomba della povera Clicuscia a proprie spese dopodiché Fyodor Pavlovich che già tante volte aveva annoiato con ramentargli di quella tomba era partito infine per Odessa dando addio non solo alle tombe ma anche a tutti i suoi ricordi Agliosha non dimostrò sulla tomba della madre nessun particolare sentimentalismo vado ad ascoltare il grave pedante racconto che Grigori faceva circa la messa in opera della lastra stette lì a testa bassa e venne via senza dir parola dopo quella volta lasciò passare forse anche un anno intero senza ritornare al campo santo eppure su Fyodor Pavlovich anche questo piccolo episodio esercitò la sua influenza e in maniera veramente singolare di colpo pigliò mille rubli e li portò al nostro convento che pregassero per l'anima di sua moglie ma non della seconda non della madre di Agliosha della Clicuscia ma insieme della prima della Adelaida Ivanovna di quella che lo aveva picchiato di santa ragione quella sera stessa subriacò e con Agliosha si mise a insultare i monaci era un uomo tutt'altro che religioso un uomo che forse neppure una volta aveva acceso una candela da quattro soldi dinnanzi a una immagine strana irruzione di repentini sentimenti e di repentini pensieri si verificano in soggetti simili ho già detto che era molto imbolsito nella sua fisionomia c'era a quest'epoca qualche cosa che denunciava con grande spicco il tipo e la natura della vita che aveva condotto fin qui oltre le rilassate massizze borse che aveva sotto gli occhietti sempre impudenti sospettosi sargastici oltre le rughe profonde che gli tempestavano il viso piuttosto piccolo ma grassoccio di sotto al mento aguzzo era venuta a pendergli per giunta un grosso pomo d'adamo pesante oblungo come un portamonete da cui gli veniva un aspetto di ripugnante sensualità aggiungeteci una larga bocca belluina con le labbra carnose di fra le quali spuntavano piccoli frammenti di denti neri quasi carbonizzati e gliene spruzzava la saliva ogni volta che cominciava a parlare ma del resto era lui il primo a scherzar del suo viso seppur si sarebbe detto che ne fosse soddisfatto amava soprattutto accennarsi al naso non molto grande ma molto affilato con una gobba assai accentuata vero naso romano diceva a metterlo insieme col pomo d'adamo una fisionomia perfetta da patrizio romano della decadenza si sarebbe detto che ne andasse orgoglioso ed ecco che agli oscia ritrovata da poco la tomba della madre ed ecco che agli oscia ritrovata da poco la tomba della madre venne a dirgli a bruciapelo che voleva entrare in convento e che i monaci erano pronti ad ammetterlo come novizio spiegò che questo era un suo desiderio ardentissimo e chiedeva a lui padre suo il permesso solenne il vecchio d'altronde sapeva già che lo starezzosima che si stava santificando nella sceteria del convento aveva prodotto sul suo cheto ragazzo una profonda impressione Codesto starezz innegabilmente è il monaco più per bene che ci sia lì sentenziò quando ebbe ascoltato muto e pensoso agli oscia senza però stupirsi quasi affatto della domanda che gli rivolgeva e così tu vorresti andartene lì mio cheto piccino era mezzo ubriaco e a un tratto sorrise col suo lungo sorriso brillo non privo tuttavia d'astuzia e di vino lenta scaltrezza ah io lo presentivo sai che tu avresti finito per far qualche cosa di simile cosa credi proprio lì pendeva il tuo cuore ebbene perché no tu hai i tuoi duemila rubletti ecco dunque belle pronta la dote e poi io angelo mio non sarà mai che ti abbandoni e anche subito posso versare per te quanto ci vuole se lo chiedessero certo che poi se non ti chiedessero nulla perché dovremmo fare i grandi non ti pare già tu dei quattrini ne sciupi quanto un canarino due granellini di magime per una settimana sai c'è un convento dove si trova un villaggetto attivo alla città e là tutti sanno che ci abitano sole sole le mogli del convento le chiamano così una squadra di una trentina di donne credo io io ci sono stato e sai è interessante credo intendo nel suo genere come curiosità l'indecenza è una sola che lì c'è tutta roba russa le francesine neppure l'ombra ancora eppure ci potrebbero essere che di mezzi ne hanno a sfascio appena fossero informate ci andrebbero sì ma qui da noi non c'è niente qui non ce n'è di mogli del convento ci sono i monaci quelli sì un par di centinaia tutto è in regola le ripenitenti li riconosco e così tu vuoi andartene a star con i monaci ma sai per me è un dispiacere agli oscia davvero io credimi mi sono affezionato a te del resto sarebbe proprio l'occasione che ci vuole pregherai anche per noi peccatori che davvero standocene qui abbiamo troppo peccato era una cosa che pensavo sempre chi ci sarà che pregherà per me si troverà al mondo un uomo simile caro il mio piccino in questo sai io sono un terribile stupido tu forse non ci crederai un terribile stupido vedi per quanto in questo io sia uno stupido sempre ci penso però sempre ci penso ogni tanto si intende mica sempre non è mica possibile penso che i diavoli con i loro raffi si scordino di tirar giù me quando morrò ed ecco che mi viene in mente i raffi e di dove li prendono e di che son fatti sono di ferro ma allora dove li forgiano e che c'è qualche fabbrica dunque lì da loro in questi conventi vedi i religiosi credono con sicurezza che l'inferno per esempio abbia tanto di soffitto ma io sono qui pronto a credere all'inferno purché non mi si parli di soffitto esso ne viene a risultare allora più fine direi più progredito alla luterana insomma ma in sostanza non è poi la stessa cosa col soffitto o senza soffitto ecco ecco dove sta la maledetta questione già ma se il soffitto non c'è allora non ci sono neppure i raffi e se non ci sono i raffi in tal caso tutto va a rotoli di nuovo si cade nell'inverosimile chi è allora che mi tira giù coi raffi già che se io non fossi tirato giù che ne sarebbe allora dove starebbe la giustizia a questo mondo il fudreles inventer questi raffi apposta per me per me solo già che se tu sapessi Agiosha che svergognato sono io ma là non ci sono raffi posando sul padre uno sguardo quieto e serio esclamò Agiosha già già ci sono soltanto le ombre dei raffi lo so lo so è così che un francese ha descritto l'inferno j'ai vu l'ombre d'un crochet che avec l'ombre d'una brosse frotte l'ombre d'un carrosse e tu amore mio da che lo puoi dire che non ci sono i raffi quando sarai stato coi monaci canterai un'altra antifona ma piuttosto va vada a raggiungere là dentro la verità e poi vieni a dirmela andare all'altro mondo sarà sempre meno duro a sapere con certezza che cosa c'è di là e poi per te è anche più conveniente startene coi monaci piuttosto che qui con me con un vecchiaccio ubriacone e con delle donnacce sebbene te come un angelo non c'è nulla che riesca a toccarti ebbene mi sta in mente che anche laggiù non ti toccherà nulla ed ecco perché io ti do il mio permesso perché spero in questo il cervello a te non te l'ha mangiato il diavolo adesso bruci e poi ti spegnerai guarirai e te ne tornerai fuori e io starò ad aspettarti vedi io sento che tu sei l'unico uomo sulla terra che non mi abbia giudicato vicino mio caro lo sento proprio e non posso non sentirlo ed egli ebbe perfino un singhiozzo era sentimentale era cattivo e sentimentale probabilmente qualcuno dei miei lettori penserà che il mio giovanotto fosse un essere malaticcio estatico mal sviluppato un pallito sognatore un tipo consunto ed estenuato al contrario Alessia era a quell'epoca un armonico colorito adolescente di 19 anni dallo sguardo luminoso riboccante di salute era anzi a quell'epoca pieno di leggiadria di statura mezzana e ben proporzionata di capelli biondo scuri col viso ad un bello ovale seppur un pochino allungato con due occhi piantati ben larghi di qua e di là dal naso splendenti nel loro grigio cupo assorto sempre in pensieri ed evidentemente assai calmo si dirà forse che i rossetti alle gote non impediscono né d'essere fanatici né d'essere mistici ma la mia impressione è che Alessia fosse anzi molto più realista di tanti altri oh d'accordo nella sua permanenza al convento egli credeva pienamente ai miracoli ma secondo me non sono i miracoli che potranno mai sconcertare il realista non sono i miracoli che inclinano il realista alla fede il vero realista se non è credente sempre troverà in sé la forza e la maniera di non credere neppure al miracolo e se proprio il miracolo gli stesse d'innanzi come un fatto inoppugnabile egli magari non crederà ai suoi sensi piuttosto che ammettere il fatto che seppure poi lo ammetterà lo ammetterà come un fatto naturale ma tale che gli è ancora sconosciuto e nient'altro il realista non la fede nasce dal miracolo ma il miracolo dalla fede una volta che il realista abbia acquistato la fede allora in forza del suo stesso realismo egli deve necessariamente ammettere anche il miracolo l'apostolo Tommaso dichiarò di non credere finché non avesse veduto ma quando ebbe veduto disse signore mio è dio mio fu il miracolo che lo costrinse a credere la cosa più probabile è che non fosse questo ma che egli si riducesse a credere per la sola ragione che voleva credere e forse credeva già interamente nel più segreto dell'essere suo anche nel momento stesso in cui diceva non crederò finché non avrò veduto si vorrà dire forse che Alessia era limitato non abbastanza voluto non aveva terminato gli studi e via dicendo che non avesse terminato gli studi è la pura verità ma dire che fosse limitato o sciocco sarebbe una grande ingiustizia non farò che ripetere quanto già ho detto sopra sarà messo per questa via unicamente perché in quel periodo essa sola era venuta a raffigurargli appieno l'ideale dell'esodo della sua anima dalle tenebre verso la luce bisogna aggiungere che egli era già in parte un giovane del tempo attuale vale a dire che era onesto per natura e che esigeva la verità la ricercava credeva in essa e raggiunta la persuasione sentiva il bisogno di metterci dentro tutte le forze dell'anima sua sentiva il bisogno di farvi seguire senz'altro l'azione e un indomabile desiderio di sacrificare magari tutto a quella nobile azione fosse pure la vita è pur vero che questi giovani non intendono purtroppo che il sacrificio della vita è forse il più lieve di tutti i sacrifici in un gran numero di questi casi e per esempio sacrificare mentre ribolle la gioventù 5 o 6 anni della propria vita a un arduo gravoso studio all'approfondimento ad una scienza seppure questo si risolverebbe appunto nel decuplicare in se stessi la capacità di servire a quella stessa verità e a quella stessa attività generosa che ci aveva infiammati e che ci si era proposti di compiere un tale sacrificio è senz'altro per molti di costoro una cosa superiore alle loro forze a lescia aveva scelto bensì una via opposta a tutti ma con quella medesima avidità di nobili azioni da realizzare senza indugio non appena seriamente meditando aveva raggiunto la convinzione che l'anima è immortale e che Dio esiste senza portempo in mezzo sarà detto voglio vivere per l'immortalità e compromessi a mezzo via non le tollero in modo identico se avesse deciso che Dio e immortalità sono favole senza perdere un attimo si sarebbe iscritto fra gli atei e i socialisti già che il socialismo non è soltanto la questione del lavoro o del cosiddetto quarto stato ma è eminentemente la questione dell'ateismo della moderna incarnazione dell'ateismo la questione della torre di Babele da edificare appunto senza Dio e non per raggiungere dalla terra il cielo ma per portare giù il cielo sulla terra ad Agiosha sarebbe sembrato perfino strano impossibile continuare a vivere come per l'innanzi è stato detto da via tutto quel che possiedi e seguimi se vuoi essere perfetto e Agiosha si diceva non posso io dar due rubli invece di tutto e invece di seguirmi andar bene a me se basta forse tra i suoi ricordi di infanzia si conservava un'ombra del nostro monastero suburbano dove poteva essere stato condotto da sua madre a messa e forse avevano anche esercitato il loro influsso gli obliquiraggi del sole al tramonto dinnanzi a quell'immagine a cui lo protendeva la sua mamma Cricuscia tutto assorto era sopraggiunto fra noi forse per vedere un po' se là dentro si trattava di tutto o anche là di due rubli soli ed ecco che nel convento aveva incontrato quello starec questo starec come già ho detto sopra era lo starec zosima ma a questo punto bisognerebbe spendere qualche parola per spiegare in generale che cosa sono gli stareci dei nostri monasteri e il guaio è che su questo terreno non mi sento abbastanza competente e sicuro mi proverò tuttavia a dirlo in poche parole e restando alla superficie e innanzitutto gli specialisti e i competenti assicurano che gli stareci e l'istituzione di essi lo staracestvo sono comparsi da noi nei nostri monasteri russi solo in data assai recente da neppure cent'anni mentre in tutto l'Oriente ortodosso segnatamente sul Sinai e sul Latos sussistono ormai da un migliaio di anni e assicurano che lo staracestvo era anche da noi in Russia nei tempi più remoti o perlomeno è forza presupporre che ci fosse ma in seguito alle peripezie della Russia all'invasione dei tartari ai torbidi all'interruzione dei rapporti con l'Oriente dopo la caduta di Costantinopoli questa istituzione dove cadere in dimenticanza e gli stareci scomparvero l'istituzione è stata resuscitata fra di noi alla fine del secolo scorso da uno dei grandi campioni dell'ascetismo come si suole chiamare paesi velizvoschi e dai discepoli di lui ma ancora oggi dopo quasi cent'anni sono tutt'altro che numerosi monasteri dove sussiste e anzi a volte è andata soggetta poco meno che a persecuzioni come una novità sconosciuta in Russia una fioritura particolare ha ottenuto da noi soltanto nell'insigno ermitazzo di Kozelskaya Optina quando e da chi lo staracetvo fosse trepiantato anche nel nostro convento suburbano non posso dirlo ma vi si contava ormai la terza successione di stareci dei quali lo staracetzo ma era l'ultimo se non che anche questi era quasi in fin di vita dall'estenuazione e dai malanni e sostituirlo non si sapeva davvero con chi il problema era grave per il nostro convento dato che il convento nostro non aveva avuto finora nulla per cui andasse famoso non c'erano in esso corpi mummificati di santi non c'erano apparse miracolose icone non c'erano neppure tradizioni illustri che si ricollegassero alla nostra storia ne vi si potevano annoverare gesta storiche e beneverenza patriottiche aveva fiorito essere fatto famoso in tutta la Russia proprio a motivo degli staraci per vedere ed ascoltare i quali accorrevano qui in folla i pellegrini da tutta la Russia da migliaia di miglia di distanza ma che cosa è dunque uno starich uno starich è quegli che trasferisce la vostra anima la vostra volontà nella sua anima e nella sua volontà scelto che abbiate uno starich voi abdicate alla vostra volontà e la abbandonate a lui in piena sottomissione in piena abnegazione questa esperienza questa terribile scuola di vita viene accettata di buona voglia da colui che rinuncia a se stesso nella speranza che dopo la lunga prova riesca a vincere se stesso a dominarsi in modo da pervenire finalmente con la sottomissione di tutto l'essere alla liberazione perfetta cioè alla liberazione da se stesso sfuggendo così alla sorte di quelli che hanno vissuto tutta la vita e in se stessi non hanno trovato sé tale è l'istituzione dello staracezvo la quale non è qualcosa di teorico ma si fonda su un'esperienza che in oriente è ormai millenaria gli obblighi che si contraggono verso lo stare sono ben altra cosa da quella consueta obbedienza che c'è sempre stata anche nei monasteri russi qui tutti gli scienziati professano una confessione perpetua allo starec e si costituisce un vincolo indistruttibile fra colui che si lega e colui che si è legato si racconta per dare un esempio che una volta nei primi tempi del cristianesimo uno di questi novizi senza vela d'empiutua non so quale obbedienza impostagli dal suo starec si allontanasse da lui e dal monastero e mutasse paese di Siria in Egitto qua giù dopo lunghe e magnanime prove fu giudicato degno alla fine di patir la tortura ed affrontare il martirio per la fede ma quando la comunità dei fedeli lo seppellì già in fama di santità ecco che mentre il diacono intonava catecumene uscite la bara in cui era adagiato il corpo del martire fu strappata via e venne lanciata fuori del tempio e così per tre volte di seguito e finalmente si seppe che quel santo martire aveva infranto l'obbedienza e si era allontanato dal suo starec e perciò senza l'assoluzione dello starec non avrebbe potuto essere perdonato nonostante tutte le sue magnifiche gesta ma quando lo starec a corso lo ebbe assolto dall'obbedienza allora sì che il seppellimento poteva effettuarsi indubbiamente si tratta soltanto di una vecchia leggenda ma ecco ora un episodio recente un monaco dei tempi nostri si era rifugiato sul monte Athos quando a un tratto il suo starec gli comandò di lasciare l'Athos che gli adorava con tutta l'anima come una cosa sacra come un placido recesso e da prima andarsene a Gerusalemme a renderlo secui ai luoghi santi poi ritornare di nuovo in Russia nel settentrione in Siberia là è il posto tuo non qui sorpreso e stravolto dal dolore il monaco si presentò a Costantinopoli al supremo patriarca pregandolo che lo assolvesse dalla sua obbedienza ed ecco che la suprema autorità gli rispose che non solo egli patriarca supremo non era in grado di assolverlo ma su tutta la terra non c'era e non poteva esserci alcun potere che valesse ad assolverlo da quella obbedienza una volta che gli era stata imposta dal suo starec sarebbe valso unicamente il potere di quello starec che glielo aveva imposta cosicché lo staracestvo è dotato di una potenza che in certi casi è illimitata e insindacabile ed ecco la ragione per cui in molti conventi qui in Russia lo staracestvo incontrò poco meno che la persecuzione contemporaneamente gli staraci non tardarono ad acquistare la più alta stima fra il popolo agli staraci del nostro convento per esempio accorrevano sia persone delle classi umili sia le più alto locate per confessare prosternandosi a loro i propri dubbi i propri peccati i propri dolori e invocare consiglio e guida a vedere questo gli avversari degli staraci si levarono la voce accusandoli fra l'altro che qui in modo dispotico e alla leggera si avviriva il sacramento della confessione sebbene l'abitudine di confessare perpetuamente allo starec l'animo proprio da parte di un suo discepolo o di un uomo di mondo non venga praticata affatto come un sacramento tuttavia lo staracestvo finì per mantenersi e a poco a poco va prendendo piede nei monasteri russi certo non si può negare che questo sperimentato e ormai millenario strumento di rigenerazione dell'uomo dalla schiavitù alla libertà e al perfezionamento morale può convertirsi in un'arma a doppio taglio così che qualcuno magari ne sarà condotto invece che all'umiltà e al definitivo dominio di se stesso al più satanico orgoglio ossia ai ceppi anziché alla libertà lo starec Zosima era sui 65 anni e usciva da una famiglia di proprietari di terre un tempo ancora giovanissimo aveva servito nell'esercito ed era stato al caucaso come ufficiale subalterno senza dubbio era stata una qualche singolare peculiarità del suo animo quella che aveva colpito Agliosha Agliosha viveva nella stessa cellula dello starec il quale lo amava molto e gli permetteva di avvicinarlo liberamente aveva tenuto presente che Agliosha pur risiedendo a quell'epoca nel convento non era ancora vincolato in alcun modo poteva uscire e andarsene dove voleva personate intere e se indossava la sua tonacella la faceva volontariamente per non distinguersi da tutti gli altri del convento ma poi in fin dei conti questa era una cosa che anche a lui piaceva può darsi che sulla giovane fantasia di Agliosha esercitassero un grande influsso quella potenza quella fama che circondavano di continuo il suo starec dello starec Zosima dicevano molti che essendo venuto per tanti anni a contatto con tutti coloro che venivano a aprirgli il loro cuore e a invocare il suo consiglio e il balsamo della sua parola una così gran quantità di confessioni di rimorsi di autoaccuse fosse venuta a raccogliersi nell'anima sua da fargli acquistare alla fine una sagaccia così penetrante che gli bastava un'occhiata al viso dello sconosciuto venuto a trovarlo per indovinare che cosa fosse venuto a chiedergli di che cosa avesse bisogno e perfino quel genere di afflizioni tormentasse la sua coscienza tanto che meravigliava turbava e a volte quasi spaventava il sopravvenuto con una conoscenza così precisa del suo segreto prima che gli avesse pronunciata una parola ma con tutto questo agli oscia notava quasi sempre che molti quasi tutti coloro che si recavano per la prima volta dallo starec per una conversazione da solo a solo entravano timorosi e agitati e ne uscivano quasi sempre raggianti e pieni di gioia e il più cupo dei visi si mutava infelice e agli oscia era stato assai colpito anche dal fatto che lo starec era tutt'altro che severo al contrario c'era sempre non so quale letizia nelle sue maniere i monaci solevano dire di lui che si legava con più affetto a chi era più peccatore e chi era più peccatore di tutti quegli era amato più di tutti da lui si trovavano fra i monaci ancora adesso che la vita dello starec era prossima alla fine odiatori e invidiosi di lui ma ne erano ormai rimasti ben pochi e questi tacevano benché fra essi si annoverassero parecchi dei personaggi più eminenti e più venerandi del monastero come per esempio uno dei monaci più anziani in signe campione del silenzio ed eccezionale digiunatore tuttavia l'enorme maggioranza teneva ormai dalla parte dello starec Zosima e ce n'erano anzi moltissimi che lo amavano con tutto il cuore ardentemente e veracemente alcuni poi gli erano attaccati in modo quasi fanatico quest'ultimi non si peritavano di dire seppure non proprio ad alta voce che egli era un santo non poteva più esserci il minimo dubbio e presagendo prossima la fine di lui attendevano addirittura miracoli solleciti e gran gloria del monastero in un imminente avvenire nella miracolosa potenza dello starec credeva incontrastatamente anche agli oscia allo stesso modo che incontrastatamente credeva al racconto di quella bara volata fuori dalla chiesa egli vedeva coi propri occhi come molti di quelli che accorrevano con bambini e altri familiari malati e pregavano che lo starec imponesse su coloro le mani e pronunciasse la sua preghiera ritornavano di lì a poco certuni l'indomani stesso qui al convento e gettandosi in lacrime ai piedi dello starec lo ringraziavano della guarigione dei loro malati si trattasse effettivamente di guarigione o soltanto di un naturale miglioramento nel decorso del male era questo un problema che per la lioscia non esisteva dato che egli aveva ormai una fede assoluta nella potenza spirituale del suo maestro e la gloria di questo era come un suo stesso trionfo e più che mai gli palpitava nel cuore e si faceva tutto raggiante quando lo starec usciva incontro alla folla che lo attendeva all'ingresso dell'asceterio pellegrini del popolo che apposta per vedere lo starec e ricevere la benedizione di lui erano affluiti qui da tutta la Russia essi gli si gettavano innanzi piangevano gli baciavano i piedi baciavano la terra su cui egli poggiava urlavano le donne gli protendevano i loro bambini e gli venivano condotte da presso le clicusce ammalate lo starec parlava con loro pronunciava su loro una breve preghiera li benediva e li lasciava andare negli ultimi tempi gli attacchi della malattia lo avevano in certi periodi così indebolito che non aveva neppure le forze di uscire di cella e avveniva che i pellegrini qui al convento aspettassero la sua comparsa per parecchi giorni di seguito per la rioscia non era oggetto di nessun problema il motivo per cui costoro lo amassero tanto per cui gli si gettassero ai piedi e piangessero d'intenerimento solo a vedere il suo viso e gli intendeva così bene come per l'umile anima delle plebi russe schiacciate dal lavoro e dal dolore e soprattutto dall'ingiustizia dei peccati quotidiani loro propri e di tutta l'umanità non possano esservi esigenza e consolazione maggiori che di trovare una cosa sacra o un santo cadergli innanzi e adorarlo se in noi c'è il peccato l'ingiustizia e la tentazione ebbene c'è pur sulla terra laggiù chissà dove un uomo santo e sublime c'è in lui se non altrove la giustizia c'è in lui perlomeno che sa la verità vuol dire che questa non si estingue sulla terra e che dunque un giorno verrà anche fra noi e regnerà su tutta la terra secondo ci è stato promesso sapeva bene Agiosha che proprio questo è il sentimento e anche il ragionamento del popolo era cosa intesa ma che lo stareci per l'appunto fosse quel santo quel custode della verità divina agli occhi del popolo questa era una cosa su cui egli non aveva il minimo dubbi né più né meno di tutti quei mugik piangenti e delle loro donne ammalate che protendevano allo stareci i loro bambini che poi dopo morto lo stareci avrebbe procacciato al monastero una fama straordinaria tale convinzione regnava nell'anima di Agiosha con più forza probabilmente che in alcun altro lì al monastero e più in generale in tutto quest'ultimo periodo di tempo una profonda bruciante esultanza di mano in mano più forte divampava nel suo cuore non lo turbava appunto il pensiero che questo stare ci stesse innanzi pur sempre come un essere d'eccezione non importa egli è santo nel cuore di lui c'è il segreto del rinnovamento per tutti c'è quella possanza che stabilirà alla fine la verità sulla terra e tutti saranno santi e tutti sameranno l'un l'altro e non ci saranno più né ricchi né poveri né superbi né umiliati ma tutti saranno figli di Dio e sopravverrà il vero regno di Cristo ecco che cosa struggeva il cuore di Agiosha sembra che il suo Agiosha producesse una fortissima impressione la venuta di tutte e due i suoi fratelli che fino a quel giorno erano rimasti completamente sconosciuti col fratello Dmitri egli si affiatò più presto e più intimamente benché fosse arrivato dopo che non ancora l'altro Ivan fratello suo uterino egli sentiva una gran curiosità di conoscere meglio il fratello Ivan ma ecco che costui viveva qui già da due mesi e benché si vedessero anche di frequente non c'era modo che si affiatassero insieme Agiosha dal canto suo era taciturno e sembrava che aspettasse qualche cosa o che qualche cosa gli desse pudore mentre il fratello Ivan di cui pure Agiosha si era accolto addosso dapprima i lunghi e curiosi sguardi sembrava che in breve avesse cessato perfino di avvedersi di lui Agiosha notò la cosa con un certo turbamento attribuì l'indifferenza del fratello alla diversità che era fra loro nell'età e soprattutto nella formazione spirituale ma anche ad altro pensava Agiosha tanto poca curiosità tanto poco interesse per lui derivavano forse in Ivan da qualche altra cosa di cui Agiosha era interamente vita all'oscuro egli aveva sempre un'impressione che Ivan fosse come assorbito da qualche cosa qualche cosa di intimo e di grave che tendesse tutto a questa meta forse molto ardua cosicché non avesse tempo di occuparsi di lui e che appunto questa fosse l'unica causa per cui lo trattasse con tanta trascuratezza il pensiero gli era corso anche a questo che potesse trattarsi da un certo disprezzo per lui novizio sempliciotto da parte di un ateo pieno di cultura di questo disprezzo seppure c'era egli non si sentiva capace di offendersi ma pure aspettava con un ansia e un turbamento incomprensibili a lui stesso il momento in cui il fratello avrebbe voluto accostarlo più da vicino il fratello Dimitri si esprimeva col più grande rispetto sul conto del fratello Ivan e ne parlava con una specie di unzione particolare appunto da lui Agliosce era stato informato di tutti i dettagli di quella grave faccenda che aveva finito collegare in quest'ultimi tempi i due fratelli maggiori con un vincolo di grande strettezza gli accenti entusiastici che il fratello Ivan strappava a Dimitri colpivano tanto più Agliosce in quanto che il fratello Dimitri era un uomo a paragone di Ivan quasi privo ad ogni cultura e a metterli accanto tutte e due formavano una contraddizione così stridente per personalità e carattere da non potersi forse immaginare due uomini più dissimili l'uno dall'altro fu appunto in quest'epoca che ebbe luogo un convegno o per dir meglio una riunione familiare di tutti i membri di questa dissestata famiglia nella cella dello Starec riunione che doveva avere un'eccezionale influenza su Agliosce la spinta a questa riunione fu in verità alquanto torbida proprio allora i contrasti tra Dimitri Fiotolovic e suo padre intorno all'eredità e alla valutazione del capitale erano pervenuti incontrastabilmente a un punto intollerabile sembra che Fiotol Paolovic per primo e così per Celia affacciasse in idea di riunirsi tutti insieme nella cella dello Starec e sia pure senza ricorrere direttamente a una sua azione di intermediario discorrere fra loro dell'affare serbando una maggiore compostezza da che era presumibile che la dignità e la persona dello Starec avrebbero esercitato un influsso pacificatore Dimitri Fiotolovic il quale non era stato mai dallo Starec e non lo aveva mai neppure veduto pensò ben si intende che con questo Starec avessero intenzione di mettergli paura ma siccome era lui il primo a rimproverarsi in segreto di molti dei suoi scatti più crudi durante le ultime lite col padre così accettò l'invito a questo proposito bisogna sapere che egli non abitava in casa del padre come Ivan Fiotolovic ma per conto proprio all'altro capo della città le cose stavano a questo punto quando Piotr Aleksandrovic Musov che in quel periodo soggiornava fra noi si attaccò con gran calore a quella idea di Fiotr Paolovic Liberale del 40 e del 50 libero pensatore e ateo egli fosse a noia o un frivolo desiderio di passatempo divenne l'anima della faccenda Don Trattolo assalse una gran voglia di vedere il monastero e il santo siccome si perpetuavano ancora i suoi vecchi contrasti col monastero e ancora si trascinava la causa circa i confini fra il monastero e le sue terre circa quei tali diritti di taglio del bosco e di pesca nel fiumicello eccetera eccetera egli si affrettò ad approfittarne per far figurare che lo animava un desiderio ad avere un abboccamento col padre igumeno non sarebbe stato possibile portermine alla lite in modo amichevole un visitatore che avesse intenzioni simili poteva senza dubbio essere ricevuto in convento con più attenzione e più obbligazione che non un semplice curioso in seguito a tutte queste macchinazioni potè determinarsi nel monastero una certa corrente che influì sullo starec infermo il quale in quest'ultimi tempi non lasciava quasi più la cella e non riceveva dato il suo stato di salute neppure i visitatori consueti e finì che lo starec diede il suo assenso e fu stabilito il giorno della visita chi mi ha messo a farle parti tra loro dichiarò soltanto con un sorriso ad Agiosha quando seppe dell'appuntamento Agiosha si turbò profondamente se fra tutti i codesti litiganti e disputanti ce n'era uno che potesse guardare con serietà alla riunione questi era senza dubbio soltanto Dimitri i rimanenti venivano tutti per motivi crivoli e forse anche offensivi per lo starec ecco qual era il pensiero di Agiosha il fratello Ivan e Miusov sarebbero venuti qui spinti da una curiosità magari irriverentissima e il padre chissà per voglia di qualche scenata buffonesca e teatrale oh Agiosha parlava poco ma conosceva già abbastanza e ben addentro suo padre questo ragazzo ripeto non era affatto quell'ingenuo che tutti credevano con un senso d'angoscia egli attendeva il giorno stabilito senza dubbio si preoccupava molto in cuor suo che si trovasse un modo di por fine a tutte queste discordie familiari non di meno la sua grande preoccupazione era lo starec trepidava per lui e per la sua fama temeva che potessero offenderlo e soprattutto temeva quel sottile impeccabile sarcasmo di Miusov e le reticenze superbe del colto Ivan secondo il quadro che sempre tornava a prospettarsene voleva anzi arrischiarsi a preavvisare lo starec dicendogli qualche cosa di queste persone destinate a venire qui ma ci pensò meglio e serbò il silenzio mandò soltanto la vigilia del giorno prefisso un suo conoscente del fratello Dimitri a dirgli che gli voleva gran bene e si aspettava che mantenesse la promessa Dimitri restò pensieroso non riuscendo a farsi venire in mente che cosa mai gli avesse promesso rispose tuttavia con una lettera in cui diceva che con tutte le forze si sarebbe frenato al cospetto dell'infame e benché profondamente stimasse lo starec il fratello Ivan era però convinto che qui c'era sotto o qualche trappola per lui o una commedia indegna tuttavia preferirò inghiottirmi la lingua piuttosto che mancare di rispetto al sant'uomo date tanto venerato concludeva la lettera di